La macula è di grande attualità nell'oculistica. Quando io ho iniziato la mia specialità proprio a Bari, con l'allora compianto per sorcardia, quando uno aveva un'affezione della macula, gli si stringeva la mano e gli si diceva non si preoccupi, tanto c'è l'altro occhio. Purtroppo bisogna raggiungere che si ammalerà anch'esso perché spesso, in una grande percentuale dei casi, la maculopatia è bilaterale. Che cos'è la maculopatia? Io quando spiego ai miei pazienti dico che la macula è il cuore della retina e la retina è il cuore dell'occhio, quindi è il cuore del cuore. La retina è un pezzo di cervello, la macula è la parte centrale della retina. A che serve? A vivere tutti i giorni. Se noi riusciamo a leggere un messaggino nel telefono, se noi riconosciamo il viso di un amico o di una persona cara, se noi vediamo il numero di un autobus, se noi leggiamo il nome di una strada e facciamo migliaia di cose durante la giornata, lo dobbiamo alla macula. Quando questa piccola regione del corpo umano di soli 2 mm quadrati si ammala, diventa una tragedia perché è fonte, oltre che di non visione o di riduzione alla visione, è fonte di grave affezione psicologica perché sono degli studi degli psicologi che addirittura i pazienti che hanno la maculopatia vivono peggio psicologicamente di quelli che fanno la dialisi. Oggi qui c'è tutto sulla patologia della macula. Si va dalla diagnostica, si va dalla terapia medica, dalle iniezioni dentro il bulbo oculare alla chirurgia. Il congresso abbraccia tutto a 360 gradi e anno dopo anno la medicina in questo campo ha fatto un progresso enorme perché, come vi dicevo prima, prima si poteva solo stringere la mano. Oggi buona parte di queste patologie si possono curare, tant'è che il numero di cecità negli ultimi anni in Danimarca si è più che dimezzato.